Musica Cari telespettatori di Fano TV, buonasera, ci troviamo di nuovo nello studio dedicato agli approfondimenti perché la CNA dopo aver incontrato i candidati a sindaco della città di Fano si confronterà con i candidati invece della città di Pesaro al centro del dibattito anche questa volta ci saranno i temi legati all'economia e alle piccole imprese come ad esempio quello della burocrazia, la tassazione locale, lo sviluppo urbanistico e le infrastrutture ospite della prima puntata è Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle, buonasera Francesca Buonasera a tutti Do il benvenuto anche a Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA, buonasera Moreno Buonasera a tutti Francesca, lei si presenta per la prima volta come candidata a sindaco di Pesaro dopo un lungo periodo di attesa per la presenza di un altro candidato del suo stesso movimento oggi è qui fresca di nomina risponderà alle domande del mondo delle imprese ma intanto le voglio chiedere velocemente che cosa avete in mente per la Pesaro del futuro Allora, innanzitutto la mia candidatura è di pochi giorni quindi noi abbiamo dei progetti in questi mesi mi sono confrontata con anche le varie associazioni di categoria ho ritenuto importante parlare con loro perché ritengo che la piccola e media impresa sia la colonna vertebrale per la nostra Italia ma anche per il nostro territorio io sono consigliera comunale all'interno del consiglio comunale di Pesaro ho portato all'attenzione il discorso della piccola e media impresa perché vedevo che negli anni era diventato il fanalino di coda e proprio i dati ci dicono che Pesaro è diventato il fanalino di coda della regione Marche Moreno, a lei la prossima domanda Un tema molto caldo e molto importante per le imprese della CNA quello della tassazione locale dall'osservatorio nazionale della nostra associazione si evince che Pesaro non è particolarmente virtuoso in questa particolare classifica cosa intendete fare a questo riguardo e quali sono le manovre che volete fare per diminuire alle imprese le tasse locali? Allora, noi del Movimento 5 Stelle già all'interno del consiglio comunale abbiamo più volte detto che era importante abbassare la tassazione per le imprese ho fatto numerosi interventi dove richiamavo all'attenzione di questo problema anche perché a Pesaro abbiamo sempre dai dati e le statistiche le imprese stanno chiudendo, soprattutto nel centro storico è importante quindi andare nella direzione dell'abbassamento delle tasse ma anche la semplificazione della burocrazia Esatto, infatti proprio su questo verterà la prossima domanda Sì, è un altro tema molto caro alle imprese della CNA è quello della burocrazia il fardello della burocrazia è molto pesante per i nostri imprenditori e spesso è anche così, diciamo, peggiorato dalle amministrazioni pubbliche Cosa volete fare voi per snellire la macchina burocratica del Comune di Pesaro? Allora, noi riteniamo importante innanzitutto andare a rivedere i regolamenti comunali perché ad oggi i regolamenti vanno rivisti ad esempio si è puntato molto questa amministrazione attuale sul turismo ma senza dare conto all'importanza di rimettere mano a quei regolamenti vecchi quindi noi riteniamo questo importante Altra cosa che vorremmo fare è creare dei tavoli di lavoro in sinergia non solo con il Comune di Pesaro è molto importante per noi tutto il territorio perché se si vuole puntare al turismo si deve pensare non solo al turismo di costa con gli eventi o lanciare giusto delle serate spot ma è importante lavorare in sinergia con tutto il territorio anche dell'entroterra anche perché noi abbiamo un'entroterra bellissimo e quindi va valorizzato Quindi anche qui burocrazia, tassazione, insomma ci lavorerete Certo Ci sono delle domande che vorrebbero porle alcuni imprenditori Sentiamola prima C'è una forte crisi nel commercio e molti negozi stanno chiudendo Cosa pensate di fare? Ecco Francesca, che cosa si può fare? Quello che riteniamo noi importante e lo stiamo dimostrando anche al governo la piccola media impresa ha un'importanza fondamentale Il grosso problema dei centri storici è stata la grande distribuzione che ha, chiaramente avendo la possibilità di fare anche dei prezzi più competitivi ha reso la piccola media impresa difficilmente competitiva solo che dobbiamo calcolare che l'impresa piccola crea un indotto molto superiore chiudendo i piccoli centri automaticamente c'è tutto quel percorso che avviene dietro che sono i grossisti di conseguenza tutto è andato a morire le faccio un esempio su Pesaro avevamo delle eccellenze all'interno del centro storico che ad oggi non abbiamo più quindi va riqualificato tutto il discorso del centro storico vanno fatti dei progetti che vadano nella direzione della piccola media impresa noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dei punti all'interno del programma che poi spiegherò quando presenterò tutto il programma che vanno in aiuto proprio della piccola media impresa le possibilità ci sono bisogna utilizzare anche l'innovazione nell'impresa e anche utilizzare i bandi europei che è importante e c'è questa possibilità sappiamo ad oggi che tanti soldi ritornano indietro in Europa perché non vengono utilizzati quindi ci deve essere un percorso anche a livello comunale con gli uffici che già a Pesaro esistono e che vanno a intercettare i bandi europei che vadano in aiuto proprio sull'impresa Ecco, gli affitti invece come sono? Elevati? Gli affitti in centro sono elevati quindi è importante che l'amministrazione adotti dei criteri che vadano in aiuto delle imprese e che ci sia la possibilità attraverso anche i bandi europei di fare dei percorsi che vadano in aiuto dell'imprenditore e anche per chi affitta il locale Do il benvenuto ad Antonio Bianchini responsabile sindacale della CNA di Pesaro Buonasera Buonasera a voi A lei la prossima domanda Sì, io volevo chiedere alla candidata come ben saprà a livello nazionale nelle settimane e nei mesi scorsi il mondo delle imprese ha lamentato forti critiche rispetto alle vostre politiche in tema di economia in particolare si è lamentato l'assenza di misure rivolte agli investimenti e allo sviluppo e molte azioni invece diciamo destinate ad altre misure vedi il reddito di cittadinanza volevo chiederle rispetto a questa azione politica come pensa che questo possa incidere sull'economia e sul territorio della città di Pesaro? Io credo che il reddito di cittadinanza creerà quell'indotto che manca ad oggi in questo modo le persone troveranno lavoro nel reddito di cittadinanza c'è anche la possibilità di aiutare le imprese che aderiscono e assumono questo personale che è disoccupato quindi ci saranno anche degli sgravi fiscali per le imprese che non è cosa da poco non è mai avvenuta e io credo che questo governo sta attuando una serie di politiche che vanno proprio in aiuto delle piccole e medie imprese quindi non ritengo che sia giusto quello che passa di messaggio ci sarà proprio una rivoluzione in questo senso grazie al cielo e speriamo che negli anni futuri ma anche nei prossimi mesi vedremo il cambiamento ne sono convinta Francesca adesso passiamo al prossimo contributo ascolti sempre più furti nei negozi e nei laboratori cosa intende fare sul tema della sicurezza? il tema della sicurezza sulla sicurezza è chiaro che va deve essere incrementato il discorso della polizia municipale un problema che ancora oggi ritroviamo a Pesaro è l'abusivismo e questo crea disordine è scontento a tutti quei commercianti quindi è importante lavorare in sinergia sempre con tutte le forze dell'ordine noi del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale più volte abbiamo spinto nella direzione di aumentare le forze dell'ordine e anche dare più controllo nella città di Pesaro soprattutto assumendo altri agenti della polizia municipale si può fare anche qualcos'altro per contrastare questo fenomeno dei furti? i furti a Pesaro sono aumentati negli anni anche se i dati dicono che non è così ma il vero motivo è che tante persone non fanno neanche più la denuncia per non perdere tempo le dirò nella mia realtà del mio lavoro io ho subito tre furti ma ho solamente denunciato un furto per non perdere tempo perché poi alla fine sono tutte carte che insomma ti ritrovi che perdi più tempo per fare la denuncia ma alla fine non si arriva a nessuna soluzione quindi ci deve essere più controllo più vigilanza e anche più telecamere video-serveglianza in tutto il territorio grazie per questa sua risposta do il benvenuto a Claudio Salvi giornalista responsabile dell'ufficio stampa della CNA buonasera buonasera allora candidato al Movimento 5 Stelle la domanda è ghiotta per un giornalista che si occupa anche del mondo delle imprese dunque a livello nazionale siete stati spesso criticati per aver broccato diciamo così le grandi infrastrutture TAV TAP e quant'altro in rapporto alla famosa equazione costi benefici anche in alcune amministrazioni locali che governate vi si critica un po' di diciamo così ingessatura relativamente al tema dei lavori pubblici ecco trasferiamo il tutto sulla città di Pesaro lei candidato sindaco ecco che cosa intendete fare per le infrastrutture della città di Pesaro allora innanzitutto le dico che a livello nazionale ci sono state delle manovre che hanno dato finalmente lo sblocco al patto di stabilità quindi l'avanzo ad esempio comunale essendo il comune di Pesaro anche virtuoso potrà utilizzare i soldi del 2017 per intervenire su delle strutture a Pesaro e per quanto riguarda le infrastrutture io credo che prima cosa prima di creare nuove infrastrutture mettiamo a posto quello che abbiamo già perché ci sono delle strade che sono disestate e vanno sistemate ci sono ponti da tenere controllati quindi sistemiamo già quello che c'è anche perché Pesaro ha una viabilità che è abbastanza buona ecco lei però sa che molti cantieri non potranno partire se partiamo solo dal presupposto che si fa solo manutenzione nuovi cantieri non si potrebbero aprire beh non è così perché comunque le nuove anche le manovre che hanno fatto all'interno del governo dicono che c'è anche la possibilità ad esempio con le mille proroghe proprio anche l'attuale sindaco Ricci l'ha ammesso che ci sarà la possibilità di fare nuove infrastrutture bene grazie Claudio Morino anche lei ha un'altra domanda per la candidata sindaco sì abbiamo un'altra domanda qual è la vostra ricetta per sviluppare il lavoro e l'occupazione a Pesaro allora insieme al mio gruppo chiaramente vi darò la notizia un po' in anteprima abbiamo un progetto che va nella direzione del turismo abbiamo guardato un po' anche le realtà locali e abbiamo notato per creare turismo anche nella bassa stagione ci sono dei progetti che possono aiutare soprattutto anche le piccole medie imprese cose che ad oggi non sono mai state portate avanti dalla nostra amministrazione comunale ma sono anche molto semplici ad esempio ci sono delle realtà al nord d'Italia che nella bassa stagione rilasciano le famiglie che vanno in vacanza delle family card ma tutto questo è importante farlo in sinergia con tutto il territorio perché in questo caso verrebbero anche coinvolti i mezzi di trasporto tutto questo abbiamo visto che i dati danno che incentiva tantissimo anche il turismo durante la bassa stagione poi spiegherò meglio nello specifico di che cosa si tratta secondo lei questo può aumentare anche l'occupazione nella città di Pesaro non solo nella città di Pesaro ma in tutta la provincia ecco ci sono anche altre iniziative per favorire insomma l'occupazione il Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale punta proprio su questo fattore ci sono tante iniziative che a livello nazionale sta dimostrando il Movimento 5 Stelle lo abbiamo visto anche i dati ci dicono che ad esempio è aumentata anche l'occupazione a tempo indeterminato del 76% cioè cosa che fino ad oggi non era mai avvenuta eravamo rimasti in un ingranaggio inceppato ma finalmente è arrivato un governo che ha avuto il coraggio e la prontezza di prendere in mano la situazione e di cambiare tutto il sistema quindi io sono molto fiduciosa le cose cambieranno rimaniamo sul turismo cultura e turismo nuovi volani dell'economia pesarese cosa ne pensate quindi in maniera più approfondita allora il discorso del turismo e della cultura rientra al discorso che facevo poco fa quindi è importante che si lavori insieme con i vari assessorati perché ad oggi l'amministrazione comunale ha lanciato delle iniziative ma anche gli assessorati hanno lavorato in maniera suddivisa invece è importante andare a mettere all'interno dello stesso tavolo attività economiche urbanistica cultura turismo ma nello stesso tempo capisco che sia difficile è importante coinvolgere le associazioni di categoria e io questo sono anni che lo dico anche all'interno del consiglio comunale ho creato dei tavoli di lavoro dove abbiamo portato avanti dei progetti che alla fine in consiglio comunale poi sono stati approvati e porteranno sicuramente beneficio all'impresa e alla disoccupazione sono mi sono resa conto in questi anni io vengo da una realtà commerciale che molte volte anche nella politica bastano cose semplici non c'è bisogno di arrivare a fare chissà quali seguendo chiaramente le regole e le leggi con dei progetti definiti e avere la voglia di portarli avanti anche perché con il tavolo di lavoro che avevamo istituito all'interno del consiglio comunale ha durato sei mesi però c'è stata la partecipazione di tutti e questo ha portato un risultato il bene comune quindi insomma anche lavorare su eventi su le varie iniziative che possono aiutare la città ad oggi secondo mio avviso questa amministrazione ha lanciato degli spot ma poi non è arrivato a portare concretamente il lavoro a Pesaro diciamo ha fatto divertire i pesaresi che tutto aiuta perché va benissimo i gonfiabili la torre la pizza in piazza nessuno dice perché sono comunque eventi che portano le persone a muoversi e quindi crea quell'indotto che serve ma noi dobbiamo creare il turismo il turismo ha bisogno di una vision ben definita dei progetti a lungo termine che possano arrivare poi a portare la cittadinanza di Pesaro a avere dei risultati migliori e come riporta uno dei punti della piattaforma della CNA i candidati a sindaco sono fondamentali le collaborazioni con le altre amministrazioni lei che cosa ne pensa importanti soprattutto per intercettare queste risorse comunitarie lavorare dunque su progetti condivisi pensiamo ad un'intesa con Fano Urbino Gabic anche di espressioni politiche diverse sì ad oggi candidato sindaco di Fano mi sono presentata proprio giorni fa all'interno della sala rossa nel consiglio insieme a Marta Ruggeri e Cinzia Ferri del Movimento 5 Stelle quindi mi auguro e spero che vincano loro chiaramente è importante se vogliamo il bene comune lavorare in sinergia con tutto il territorio e anche se ci sono sindaci di altri schieramenti politici si deve portare avanti il progetto cioè non si può qui più pensare lui siccome che è di sinistra allora noi non ci lavoro cioè qui si deve pensare l'idea deve essere buona si deve portare avanti il progetto per il bene dei cittadini siamo in emergenza quindi non si può più pensare di fare la solita lotta politica si deve andare oltre e il Movimento 5 Stelle lo sta facendo perché ad esempio veniamo accusati ah siete di destra perché avete fatto il contratto di governo con la Lega ah no siete di sinistra perché no è l'idea cioè non è né di destra né di sinistra deve essere un'idea buona per il bene dei cittadini avete già dei progetti in merito? sì certo io lavoro molto sui progetti ritengo che siano fondamentali nella politica ad esempio viabilità sempre eventi cultura abbiamo sì all'interno del nostro programma ci sono degli eventi sulla cultura e poi riteniamo molto importante che a Pesaro è successo questo questo purtroppo inconveniente che è stato chiuso all'università questo è stato un grosso problema perché i ragazzi che arrivavano a Pesaro creavano quell'indotto cioè ricordo che avevano raccolto degli scontrini per dimostrare che comunque davano lavoro a tutte le imprese che erano nel territorio quindi si dovrebbe anche forse ricominciare a cercare di andare nella direzione di trovare magari una sede e rimettere in campo anche riaprire un'università a Pesaro grazie Francesca Franquellucci candidata per il Movimento 5 Stelle chiudiamo qua questa prima puntata dedicata a Pesaro un'impresa in comune Moreno dobbiamo ringraziare anche un'altra collaborazione importante si ringraziamo il gruppo Crai gruppo Eurosole perché ci permette di parlare di impresa di economia e secondo me parlare di questi temi qualifica notevolmente la competizione elettorale sono davvero i temi che interessano al vero scheletro dell'economia del nostro territorio e poterne parlare in televisione con i candidati è davvero un grande valore aggiunto grazie Moreno Bordoni segretario provinciale della CNA torneremo ovviamente in questi studi per confrontarci anche insieme agli altri due candidati a sindaco grazie di nuovo Francesca grazie a voi buonasera grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito buon proseguimento di serata